Buonasera mister Antonio Palopoli, Mediasud. Analizziamo questa terza sconfitta consecutiva, il suo parere, le sue parole. Difficile analizzare la terza sconfitta. Analizziamo questa partita partendo dal gol preso su calcio piazzato, abbiamo fatto un errore in barriera. Poi abbiamo avuto, secondo me, un rigore netto. Io l'ho visto e rivisto, non ho capito perché non è stato concesso il rigore. Poi parliamo sempre e continuiamo a dire che gli episodi condizionano le partite. Poi abbiamo preso il secondo gol su un calcio piazzato ancora e poi diventa tutto più difficile. La squadra, i ragazzi ci hanno messo l'anima, hanno corso per 90 minuti. In questo periodo ci gira tutto storto, non bisogna solo pensare di continuare a lavorare, guardare avanti e rimboccarsi le mani perché sicuramente non è un buon periodo. Buonasera mister, Francesco Caruso del Corriere di Calabria. Lei si sente tranquillo dal punto di vista della posizione sua che non è granitica come magari poteva esserlo un mese fa, un mese e mezzo fa? Perché lei mi insegna che i risultati danno svancio e quindi danno maggiori sicurezze. Però tre sconfitte consecutive, al di là comunque degli episodi che comunque ci sono stati, è in dubbio, però lei come si sente rispetto a un mese fa, un mese e mezzo fa? Che abbiamo fatto tre sconfitte e un mese fa non l'abbiamo fatta. Quindi è normale che la sconfitta per il lavoro che facciamo sicuramente il risultato positivo ti aiuta a lavorare meglio. Questa domanda è da un mese e mezzo come me, me l'ha continuato a fare. Io continuo a lavorare, continuo a fare il mio lavoro, poi non sta a me giudicare le scelte. Io penso a lavorare, penso che in questo momento sicuramente non è un periodo facile. I risultati ti aiutano a lavorare meglio, ti aiutano nella positività e quindi sicuramente dopo delle sconfitte, dopo tre sconfitte sicuramente uno pensa a quello che c'è da fare, almeno io penso a quello che c'è da fare per migliorare. So che in tutte le cose, in tutti i campionati, in tutte le squadre hanno dei momenti di difficoltà. Noi attraversiamo un momento di difficoltà dei risultati, quindi non vedo un'altra scelta che non continuare a lavorare. Pensare solo a questo, poi noi l'allenatore è giudicato dai risultati, dalle scelte della società. Io sono sereno perché faccio il massimo, cerco di dare il massimo insieme a ragazzi per fare un campionato, per stare più lontano possibile dalle zone basse della classifica e quelle più pericolose. Però per il resto poi non posso fare altro solo che continuare a lavorare. Senta mister, scusami Antonio, la cosa che volevo chiedere è dove secondo lei il Cosenza tatticamente comunque in campo è mancato, comunque non c'è stata la resa che lei si aspettava e dove invece il Cittadella l'ha, diciamo così, sorpresa in senso positivo, che è una cosa che magari lei non si aspettava. Io non credo innanzitutto che sia un problema tattico, perché se andiamo sempre ad analizzare le sconfitte bisogna vedere come prende i golli, come ha giocato. Il Cittadella non mi ha sorpreso perché è una squadra che veniva da quattro vittorie consecutive, è consolidata in questo campionato, fa quel tipo di calcio che non fa giocare bene gli avversari, sporca sempre le giocate, attacca sempre in avanti, quindi è un avversario che a prescindere da tutto è un avversario ostico. Se devo dire qualcosa ai ragazzi, più della partita all'aternale al secondo tempo che oggi hanno dato l'anima, hanno messo in campo tutto quello che c'è da mettere, poi gli episodi ti condizionano sempre perché poi il calcio di rigore poteva diventare sicuramente un'altra partita. Stiamo qui ad analizzare un'altra sconfitta che, episodi e non episodi, purtroppo bisogna guardare avanti e cercare di lavorare. Allora mister, lei ha detto che si sente la fiducia della società, del presidente, del direttore sportivo. A noi oggi è parso evidente, almeno da quello che ho visto io, che a un certo punto questa squadra, è vero i due errori, è vero l'errore arbitrale perché il rigore è sacrosanto e ci può stare anche l'espulsione come ultimo uomo, però questa squadra ha perso mister, questa squadra, questo gruppo ha avuto una grossa involuzione tatticamente e nel gioco e soprattutto nella grinta, non riesce più a reagire. Cioè la mia domanda è questa mister, lei sente veramente ancora l'apporto di questo gruppo che la segue perché è chiaro che se non c'è questa coesione tra allenatore e gruppo possiamo stare qui a dire quello che vogliamo mister, però i risultati sono questi. Voi valutate i risultati, io se non sento soprattutto la fiducia della squadra non starei qui neanche a parlare, starei a casa. Siccome sento la fiducia io ci lavoro tutta la settimana con i ragazzi e so che è quello che noi prepariamo perché poi dall'esterno è tutto facile. Io sono stato calciatore, quando non c'è sintonia tra allenatore e squadra lo percepisci da quello che tu prepari durante la settimana e poi non viene riportato in campo. Noi possiamo parlare di tutto, lei può fare tutte le valutazioni, i tifosi è giusto che facciano tutte le valutazioni del caso perché poi le sconfitte sta a me analizzarle insieme alla squadra, insieme alla società, cercare di venire fuori da un momento difficile, ma tutte queste cose non le vedo. Io fino a ieri abbiamo parlato col Presidente, sappiamo, col Direttore, sappiamo che poi in Serie B soprattutto può succedere un periodo negativo dove arrivano delle sconfitte, dove ci saranno poi dei momenti positivi. Nei momenti negativi bisogna stare tutti uniti. Io continuo a fare questo, ma le assicuro una cosa, che la cosa più importante per un allenatore è sentire oltre la fiducia della società la fiducia della squadra e dei ragazzi. Su questo io ci metto la mano sul fuoco, perché i ragazzi fanno di tutto quello che proviamo durante la settimana per riportarli in campo. Quindi da questo punto di vista non me la pongo neanche la domanda. No, no, ma... Scusi, Ministro... Questa è una valutazione che... È giusto quello che dice lei, però voi lavorate. Però oggi abbiamo preso, ad esempio, due gol, due gol su calci piazzati. No, sono cose preparate... Cosa c'entra col discorso tattico, mi scusi? Calci piazzati, un calci piazzato diretto, che fa gol perché si apre la barriera è perché c'è stato un errore. Quello cosa c'entra col discorso tattico? Un altro calci piazzato, su un calcio d'angolo, secondo me molto bravo è stato l'avversario perché a mio avviso ha fatto un grande gol. Da questo a pensare che la squadra non segue l'allenatore... E questa è una mia considerazione, poi lei può fare tutte le considerazioni che vuole. E la squadra, lo ripeto, io non starei qui a parlare. Se ci fosse il minimo dubbio che la squadra non ascolta l'allenatore non starei qui a metterci la faccia, starei io a casa. E siccome io lavoro, le ripeto, tutta la settimana e guardi il giocatore, soprattutto quello che noi proviamo la settimana lo rivedi in campo, lottando, poi facciamo degli errori. Sì, facciamo degli errori. In questo momento ci gira tutto storto, gli episodi. È normale che voi vedete tutto negativo, i tifosi giustamente guardano il risultato. È normale che non è un periodo facile, però io ho fatto il calciatore, ho fatto l'allenatore, ho vissuto momenti belli, ho vissuto momenti brutti come questo, difficili. Però l'unica cosa che ho sempre messo, ci ho messo sempre la faccia, ho sempre messo davanti il lavoro, ho accettato le critiche e continuo ad accettare le critiche. Guardo in faccia a tutti perché non mi devo nascondere di niente. Accetto le critiche, però continuo a lavorare. Poi le valutazioni le ripeto, non aspettano a me, aspettano a chi mi paga, a chi ci paga. Le ripeto, ho parlato anche ieri col Presidente, quindi mi limito solo a lavorare. Le condizioni di Marras? Marras ha avuto un problemino, aveva ricevuto una botta a fine primo tempo. Durante l'intervallo stava bene, poi ha avuto di nuovo un fastidio, quindi mi ha chiesto il cambio. Senti, il prossimo avversario al San Vito è uno di quegli avversari che lei non vorrebbe affrontare, ovviamente la capolista, eccetera, eccetera. Sono tutti difficili. Però sono tutti difficili, ogni squadra chiaramente va affrontata. Con che spirito preparerete questa partita? Lei mi dirà, con lo solito spirito, con la solita bregazione, eccetera, eccetera. Bene, però comunque è una partita contro un avversario che... È un momento difficile. È in un momento difficile. Quindi non sarà una settimana come le altre, sarà una settimana dove ci sarà ancora di più, bisogna alzare ancora di più l'attenzione, l'atteggiamento, bisogna cercare di migliorare. In questo momento, a fine partita con il Cittadella, si vede tutte le cose negative. Però poi la fortuna o la sfortuna nel calcio è che la settimana successiva c'è un'altra partita. Noi, come ha detto lei, veniamo da tre sconfitte consecutive. Prima, stiamo parlando di 20 giorni fa, parlavamo... Eravamo tutti sereni, contenti, i giocatori erano tutti bravi, l'allenatore è bravo. Il calcio è fatto di questo. Io penso che nei momenti più difficili e bui come questo, io penso che la cosa più importante è stare uniti. Questo è quello che penso io, ma altre soluzioni non ne trovo. Mister, lei mi dice sempre che la classifica non la guarda giustamente, però non si sente un po' preoccupato da questo momento negativo? No, momento negativo che influisce anche sulla classifica. Cioè andiamo sempre all'indietro, altri ci arrivano. Ci siamo fermati, non stiamo andando all'indietro. Ci siamo fermati con i 19 punti che abbiamo fatto. La classifica non la guardo, sono più preoccupato per le tre sconfitte. La classifica, guardare la classifica adesso, conta ben poco. Analizziamo le sconfitte, perché la classifica in questo momento conta poco. Rispetto a 20 giorni fa sicuramente avevamo un margine diverso dalla quinta ultima, ma adesso non lo è più. Evidentemente bisogna aumentare le cose che facciamo durante la settimana e poi riproporle in campo. Ma lei si è chiesto, questo è un problema, sta diventando un problema mentale, mister. Cioè questo gruppo non riesce più a trarre quello che aveva dato in altri momenti, non riesce a fare solo perché è un momento negativo? O c'è qualcosa, diciamo, che a parte gli episodi negativi girano, sta condizionando un po' lo sviluppo di quello che era il suo progetto tecnico? No, io penso che i risultati sono la cosa, cioè è la cosa soprattutto che in questo momento dobbiamo valutare. Non è un discorso, a mio avviso, tecnico, tattico, non ha perso la fiducia alla squadra, perché poi la squadra, le vittorie aumentano l'autostima. In questo momento che perdi e non ottieni risultati, viene un po' meno l'autostima, viene un po' meno la sicurezza delle giocate che c'erano prima. Vuoi o non vuoi, alla prima difficoltà, anche oggi, alla prima occasione abbiamo preso gol su un calcio piazzato, qualche minuto prima abbiamo avuto la palla importante con un forte dentro l'aria di rigore, subito dopo l'1-0 ha avuto il calcio di rigore che poi non è stato dato. È un momento negativo, un momento difficile, e come ho detto prima, dai momenti difficili ne puoi venire fuori solo con la voglia di venirne fuori con il lavoro, non pensare solo negativo, lo so che è difficile, però ci dobbiamo provare perché è il nostro lavoro, non è finito il campionato, bisogna analizzare tutti gli errori che è la cosa più importante, perché ultimamente ne stiamo commettendo tanti, e lavorare. Grazie.